Siamo qui a questo importante convegno organizzato dall'Associazione Nuovi Castelli Romani e come amministrazione siamo molto contenti di poterci soffermare sul tema della prevenzione sanitaria. Diverse iniziative abbiamo realizzato in collaborazione con varie associazioni locali, in particolare Grottaferra da Cardioprotetta. Siamo riusciti a coprire tutto il territorio della nostra città grazie alla donazione da parte di enti non profit di oltre 16 defibrillatori che abbiamo collocato nei punti di interesse della città e questa è una delle tante iniziative che stiamo promuovendo. Questo convegno si inserisce proprio nel quadro di un'attenzione dell'amministrazione a quella che possiamo definire medicina di prossimità, una medicina attenta ai servizi della persona, attenta ad andare oltre il concetto di ospedale e una medicina di prossimità che ci implica una partecipazione della città e di tutti gli attori in gioco, amministrazione comunale, realtà della ASL, realtà associative. Ecco, la sussidiarietà è un po' una risposta a quello che può essere la necessità di una riorganizzazione della sanità pubblica in termini organizzativi, in termini di modello. Questo è uno dei tanti appuntamenti, ma la stessa associazione, insieme al mio delegato che ringrazio, il professor Netizia, per la direzione scientifica di questo convegno, ma anche per aver organizzato alcune altre iniziative interne al concetto di piazza della salute. Nei prossimi mesi saremo in piazza per attenzionare altri temi, non soltanto il diabete, ma anche le questioni di patologie cardiovascolari e così via. Prevenire è meglio che curare, l'attenzione dell'amministrazione, volta la difesa del bene pubblico, anche attraverso queste occasioni culturali di attenzionamento di alcune esigenze legate alla sanità, alla salute, ma anche alla dimensione psicofisica della persona.